E ci diamo la mano, tutti la mano ci diamo, i bimbi a dare la mano a me. Avevo tanta voglia di viaggiare, tu mi dicesti fai, io partì. Sovrimo, dissi allora, vado una donna, a te amico mio, pensaci tu. Io sono ancora giovane, signore, ma sono tanto vecchio dentro al cuore. Le cose in cui credevo mi ha deluso, io cerco solo amore e libertà. Le cose in cui credevo mi ha deluso, io cerco solo amore e libertà. Sovrimo, dissi allora, vado una donna, a te amico mio, i bimbi a dare la mano a te amico mio, i bimbi a dare la mano a te amico mio, i bimbi a dare la mano a te amico mio. Un giorno mi ha proposto un altro viaggio, il cuore mi diceva non partire. Sovrimo, dissi allora, vado una donna, a te amico mio, i bimbi a dare la mano a te amico mio, i bimbi a dare la mano a te amico mio, i bimbi a dare la mano a te amico mio. Sovrimo, dissi allora, vado una donna, a te amico mio, i bimbi a dare la mano a te amico mio, i bimbi a dare la mano a te amico mio. Sovrimo, dissi allora, vado una donna, a te amico mio, i bimbi a dare la mano a te amico mio, i bimbi a dare la mano a te amico mio. Sovrimo, dissi allora, vado una donna, a te amico mio, i bimbi a dare la mano a te amico mio, i bimbi a dare la mano a te amico mio. Sovrimo, dissi allora, vado una donna, a te amico mio, i bimbi a dare la mano a te amico mio, i bimbi a dare la mano a te amico mio, i bimbi a dare la mano a te amico mio. Allora, tu ti chiami? Enrico. Enrico, che è il mio amico, va di rima, Enrico che è il mio amico. Luigi. Luigi, mamma mia, tu sei della Toscana, di dove sei? Camofilone. Camofilone, mamma mia. E tu come ti chiami? Camilla. Camilla, è un nome che va di moda, questa si chiama Martina secondo me, come ti chiami? Martina. Questa si chiama Kicca, tu come ti chiami? Milena. Milena, però si chiama Kicca. Lui si chiama Thomas secondo me, tu ti chiami? Thomas. Ah, non c'è altro che modo. Tu ti chiami? Veronica. Ah, sei quella di prima, sarei lì. Lui si chiama Francesco, come ti chiami tu? Giulia. Lui si chiama Luca, guarda eh. Luca. Luca. E tu come ti chiami? Io lo diciamo. Gabriele, il papo bellissimo. Eccolo qua. Salutiamo tutti i bimbi con un applauso. E se tu ti devo ci fare, ti auguro di primavera.